Valar Morghulis, benvenuti all'analisi dei primi due effettivi trailer per la seconda stagione di House of the Dragon e io sono Saia, la vostra host. Di nuovo è quasi venuto automatico dire benvenuti all'episodio XXX di Team Fully Scamming, ma finalmente più i giorni passano, più sembriamo destinati ad avere contenuti della serie ed è una cosa bella. Per chi non mi conosce o è capitato sul canale per caso, benvenuti a tutti, spero rimagnate un po'. Io sono Saia, uno degli host di questo canale e mi occupo della rubrica Team Fully Scamming, episodi formato podcast sui libri di George R. R. Martin e, presto di un'altra piccola rubrica, un formato breve. Tuttavia, mi occupo anche dell'analisi di House of the Dragon, che per me, come spiegai nell'analisi del primo teaser trailer che potete trovare in descrizione, è un po' un ritorno alle origini, avendo studiato e avendo lavorato nel mondo del cinema per quattro anni. La mia parentesi lavorativa in questo mondo è stata chiusa, al suo interno vi rimangono ricordi dolci amari, ma la passione non se ne va mai ed ecco quindi che sono pronta a stressarvi con un'altra analisi. Prima di cominciare, però, è bene fare le solite premesse. La prima è uno spoiler warning. Per quanto, come potete vedere dalla sua storia, il canale tratta degli adattamenti televisivi, il suo principale focus sono i libri da cui sono tratti, e parla degli adattamenti in questa ottica. Si parlerà quindi in questo video di Fire and Blood e, dove sarà opportuno, anche di The World of Ice and Fire e la saga principale. Seconda premessa, c'è gente più esperta e preparata di me, ed è bene tenere presente quando parlo di teorie e speculazioni che bisogna sempre prenderle con le pinze. Ciò che dico non rispecchia necessariamente ciò che penso, poi, nel senso che il mio esporre determinate teorie automaticamente non significa che ci credo, semplicemente che mi piacciono o che vale la pena che siano esaminate. Cercherò di essere sempre il più oggettiva possibile, anche se ogni tanto la mia opinione può saltar fuori. Per se ultima, le traduzioni saranno mie dall'inglese, e sia chiaro, non è perché c'è da ridire con il doppiaggio o il sottotitolaggio, semplicemente tendo a vedere le cose in lingua originale e spesso e volentieri mi dimentico di andare a guardare le traduzioni. Sì, sì, sono davvero così pessima. Quindi, giovedì 21 marzo, HBO si è divertita non poco, rilasciando non uno, ma due trailer per la seconda stagione di House of the Dragon, uno dedicato alla fazione nera e uno dedicato alla fazione verde della guerra civile che sta per arrivare e che prende il nome di Dance dei Draghi. Non contenta, ha anche rilasciato le prime immagini promozionali della stagione in un'intervista a Ryan Condal, lo showrunner, per Intertenimento Weekly. Il tutto era stato preceduto da una serie di poster, quelli rilasciati mercoledì 20 marzo. Tutti i contenuti che abbiamo avuto sono molto interessanti e volevo provare a parlare di tutto qui, focalizzandomi, neanche a dirlo, sui due grandi protagonisti, i trailer. Senza altro indugio, quindi cominciamo. E lo facciamo con una breve parentesi sui poster che hanno preceduto i trailer, perché risultano esseri interessanti, sono pieni di piccoli e grandi easter eggs di cui volevo parlarvi un poco. Innanzitutto, Melis e Vagar sono sullo sfondo dei poster di Renis e Corlys e di Aegon e Christon. Sempre vedendo quest'ultimo poster, ci sono una serie di cose interessanti da sottolineare. Lo standardo personale di Aegon II, infatti, si taglia sul trono. All'interno di Asungovese in Fagliere, il simbolismo del trono di spade, che ferisce alcune persone, è molto importante. È come se determinasse chi è degno di essere re e chi no. Per par condicio c'è da dire che, a parte la prima volta discutibile di cui parleremo a tempo debito, anche Rhaenyra si taglia sul trono, e sarà un'altra cosa interessante da eventualmente vedere nel futuro della serie, con la guerra che procede. Aegon non indossa la sua corona, ma la tiene in mano e fa ombra sul suo volto, accanto a sé poi al suo creatore, il creatore di re, come se gliela dovesse tenere in testa. Non è al centro dell'immagine, poi, ed è seduto scomposto sul trono. Di contro, Rhaenyra è in centro e indossa la sua corona, oltre ad essere in piedi in una posizione decisamente più autoritaria. Oltre a questo, nel poster manca una cosa. Blackfire. Non c'è la spada dei re nel poster del re, e non è presente in nessun altro poster. Per dire, Aemond sguai in una spada, ma non è quella. E ho citato Aemond perché tecnicamente ad un certo punto di questa seconda stagione dovrebbe prendere su di sé i simboli di regittimità nominati, fino ad ora, che appartengono al fratello, in sua vece. Alicent ha l'ombra della stella a sette punte dietro di sé. Importante per il personaggio, sottolineato spesso nei making-of della prima stagione, è l'idea della fede di Alicent e come andando avanti si è completamente calata in essa. I simboli del credo dei sette finiscono per sovrastare tutto, la sua collana con la stella si ingrandisce andando avanti nelle puntate, l'arredamento della fortezza rossa viene cambiato, e via così. Sarà interessante vedere il rapporto della regina vedova con la sua fede nella seconda stagione, specialmente dopo aver visto i trailer. La vediamo più di una volta nel tempio, per dirne una. Rhaenyra ha un vestito che richiama quello di Daenerys Targaryen nelle ultime stagioni. La cosa riprende un po' la linea di ciò che aveva detto Caterall James, la casting director, sul casting di Emma d'Arsi, come Rhaenyra, voleva che venisse fatta un'associazione, far vedere a tutti che Daenerys arriva da lei. In un gioco di parallelismi e specchi, invece, Emon e Daemon, nei rispettivi poster, sono specchio. Entrambi stanno sfoderando le rispettive spade, essi Daemon a Dark Sister, e sembrano pronti a combattere. Sono in luoghi differenti, si intende, e va da sé questi sono poster, ma guardate anche il contesto in cui si trovano, l'arredamento simile, una piccola strezzata d'occhio al fatto che effettivamente i due nel corso della danza frequenteranno gli stessi ambienti, e che inevitabilmente sono destinati ad incontrarsi e affrontarsi. Sui destini intrecciati di questa coppia di unipote così simile ne abbiamo parlato molto nella nostra serie sulla danza dei draghi. Vi lascio il link del video specifico in descrizione in caso vogliate andare a curiosare. Non solo però, anche Rhaenyra e Alicent sono a specchio, e per sottolinearlo ancora di più, anche Alicent nel suo poster è coronata. Ora, voi lo sapete che queste analisi non sono fatte per incoraggiare prese di posizioni, l'ho detto nella scorsa analisi e lo ripeto anche in questa. Io posso supportare una fazione, e sapete qual è, e voi un'altra, e andare più che d'accordo e parlare di simbolismi, scelte stilistiche e varie ed eventuali. Ognuno si forma la propria idea. All'interno della serie, ora come ora, ci troviamo in una situazione curiosa. Tutti i simbolismi di reggittimità visibili appartengono a Dicun Secondo. Ha il trono, ha la spada, non ne può ossermatantè, la corona di Aegon il Conquistatore. Ma altri simbolismi legati al concetto di legittimità in sé appartengono a Rhaenyra. Viene in mente la 1x03 in questo, ma non solo. Il simbolismo dei sigilli marcia un po' su questa idea. Quello Targaryen classico rimane alla fazione nera, che almeno al momento non sembra avere, poi siamo pronti a ricrederci, il suo stemma personale di Fire and Blood. Egon Secondo ha invece il suo stemma personale, il colore del sigillo Targaryen cambiato per onorare il suo splendido drago, Sunfire, che finalmente abbiamo avuto modo di vedere nel trailer verde, tra l'altro. Lo sfondo è modificato rispetto a Fire and Blood, e il simbolismo è proprio qui. Lo sfondo non è più nero, ma verde, lo stesso verde del fuoco dell'alta torre, quando gli A-Tower sono in guerra, lo stesso del vestito di Alicent quando l'ha dichiarata nella 1x05. A mio parere, il cambio di colori qui è un'ottima scelta, ma sono curiosa di sapere che cosa ne pensate voi. E dopo queste piccole chicche, è bene passare ai trailer. Innanzitutto, sono stati introdotti, almeno sui social, dagli attori delle due teste coronate delle fazioni in guerra, Emma Darcy per i neri e Tom Glynkerny per i verdi, rispettivamente Rhaenyra e Dagon Secondo. Entrambi dicono la stessa cosa. Ogni storia ha due versioni, guardatele entrambe e scegliete uno schiramento. Ad alcuni questa mossa di marketing non è piaciuta, altri l'hanno trovata una mossa geniale e altri ancora sono rimasti indispettiti o felici di aver avuto due trailer anziché uno. Io vi ricordo a questo proposito le parole di George R. R. Martin al San Diego Comic Con di due anni fa e non posso fra l'altro che ridere tra me e me. Va da sé, non sto dicendo che ha messo mano nella campagna marketing, anzi, semplicemente era un pensiero che lo divertiva ed è interessante vedere la scelta che ha fatto HBO, praticamente affine a quello che aveva detto. Si può dire che siano strutturati allo stesso modo e contengono anche molte delle stesse scene, ma essendo uno focalizzato sulla fazzioniera della danza e l'altro su quella verde, esse vengono contestualizzate in modo diverso. A mio parere, entrambi i trailer sono molto intelligenti e vanno visti insieme, come una sorta di blocco unico, perché è un continuo ripetersi di immagini e un continuo gioco di opposti, ma anche da soli hanno il loro significato e sono in grado di rimanere in piedi, anche così. Come nel caso del primo teaser trailer, però, andiamo per ordine, seguendo lo schema del video precedente. In realtà, prima di tutto ci sarebbe da fare una comunicazione di servizio. La seconda stagione debutterà domenica 16 giugno. Era già stato annunciato che la premiere sarebbe stata all'inizio dell'estate prima e presumibilmente a giugno poi e ora abbiamo la conferma che c'è in entrambi i trailer. Calcolando gli otto episodi, la seconda stagione dovrebbe concludersi il 4 di agosto. E ora che abbiamo detto questo, possiamo cominciare con il trailer nero. Come lo scorso video, lo facciamo partendo da ciò che viene detto, perché le parole hanno un grande peso e ci aiutano a contestualizzare ciò che stiamo vedendo. Mio padre ha scelto me, la sua primogenita, per la successione. Ha mantenuto la sua decisione fino alla morte. Eppure, il figlio di Alicent siede il mio trono. Intendo combattere questa guerra e vincerla. La prima a parlare è Rhaenyra e fa quella che è una sorta di premessa generale, un dove ci siamo lasciati. La frase è intervallata da una serie di immagini interessanti di cui parliamo a breve. Qui capiamo bene le intenzioni del personaggio e su quale premesse sono basate. La cosa, neanche a dirlo, è a specchio come il trailer verde, di cui parliamo a breve. Il regno si sfascerà presto se gli uomini non ricorderanno i giuramenti fatti a Reviserys e al suo legittimo erede. Il secondo a prendere parola è l'erede di Rhaenyra, giacca Eris, che abbiamo lasciato alla fine della prima stagione con un impegno diplomatico decisamente importante e un grosso peso sulle spalle, ovvero quello di dimostrare di essere un candidato ideale per il trono, un degno successore della madre. Nella 1x10 è stato esplicitamente nominato Cregan Stark, che intravediamo in questo trailer, ma non sarà l'unico da cui il principe andrà. Lo vediamo, quindi, fare una sorta di campagna per il diritto della madre, ricordando chi, tempo addietro, ha giurato davanti a Reviserys di difendere il diritto di reniere al trono di spade. Uno di questi, tra l'altro, era il padre di Cregan, Rikon. Vedremo dove potrebbe portarlo il suo viaggio e a incontrare chi. Gli Eitower stanno marciando. Devi schiacciare questa bestia alla sua testa. Terzo prende le parole Corlys Velaryon, che sembra essere un poco spietato quando l'occasione lo ritiene. Qui sta parlando a Rhaenyra, nelle veste di una figura molto, molto importante per il monarca, quella di primo cavaliere. Questa sfidatezza può derivare da una serie di fattori, per esempio, il seguito ad un evento che sappiamo già che avverrà metà stagione, la battaglia di Ruxrest, il riposo del corvo, di cui vediamo non poche scene in questo trailer e potremmo identificare come una delle grandi battaglie, se non la più grande della stagione. Rhaen Condal poi ha parlato di due battaglie, sarà interessante quindi vedere dove la stagione andrà a parare. C'è da chiedersi qui cosa gli risponderà la regina nera. Le nostre condizioni sono molto semplici. Rinunciate al falso re e ingirunchiatevi alla regina o la vostra casata brucerà. Qui, Daemon non è più o meno spietato di Corlys, anzi, si può dire che sia una persona abbastanza pragmatica, visto in groppa lo suo per access. Qui c'è una sorta di riferimento ad Aegon I e la conquista di Westeros. Come personaggio rimane misterioso, a tratti ambiguo, spietato con i nemici ma incredibilmente generoso con amici e alleati. A conquista cominciata, Aegon offriva sempre una scelta, giurargli fedeltà o, beh, lui e le sorelle cavalcavano tre enormi draghi, il resto si può capire. Più avanti speculiamo dove Daemon potrebbe dire questa frase e a chi? Qui possiamo dire che accompagna delle immagini interessanti che forse rendono il parallelismo ancora più bello per quanto poi lo vediamo in un altro luogo e che vediamo come il principe forse non più tanto ribelle sta affrontando la sua campagna nelle terre dei fiumi. Quando il desiderio di uccidere e bruciare prenderà il sopravvento e la ragione sarà dimenticata, non ricorderemo nemmeno cosa ha dato inizio alla guerra. A mio parere, viste anche le immagini di accompagnamento cui Rhaenys sta precedendo o continuando ciò che ha detto a Rhaenyra nel primo teaser trailer, non c'è cosa più disprezzata agli dei di una guerra fra Tricidia, specialmente quando questa è una guerra tra draghi. Sta sostanzialmente suggerendo alla regina nera di essere prudente, agire con cautela visto che si ha tra le mani un'arma del genere. In questo è molto simile al defunto cugino Viserys. C'è da chiedersi se Rhaenyra si ricorderà in questa sede la lezione datare dal padre tutti quegli anni prima. Rhaenys parla anche dell'enorme peso che comporta la guerra e l'enorme rischio di dimenticarsi presto della ragione per cui si sta combattendo lasciando sostanzialmente solo cenere da governare. Combattiamo per la nostra regina? Un'esclamazione un combattiamo per la nostra regina detto da Demon Targaryen potrebbe essere un incoraggiamento ai vassalli riuniti prima di marciare o di una battaglia o chi lo sa addirittura la presa di un castello o ancora meglio di una città chi lo sa. Temo ciò a cui ho dato inizio. In ultimo un'affermazione di Rhaenyra che mostra l'umanità paura per tutto quello che sta avvenendo nel regno in quel momento. Sembra una Rhaenyra diversa quasi da quella di inizio trailer così determinata a combattere. La verità è che possono coesistere si può combattere per ciò che si ritiene giusto e al contempo essere incredibilmente spaventati delle conseguenze perché in fondo Rhaenyra si gliel'ha detto quella è una guerra tra draghi insomma non esattamente una passeggiata nel parco. Le guerre in generale sono brutali di per sé aggiungerci enormi lucertoloni volanti sputafuoco dotati di lunghi artigli e denti a guzzi non è esattamente la migliore delle cose da fare ma al contempo inevitabile perché entrambe le fazioni li hanno e sarà da vedere quindi come verranno sfruttati anche seguendo se così sceglieranno di fare i due differenti approcci di Fire Emblem dall'inizio dopo le parole passiamo alle immagini quindi perché anche loro parlano come già detto il focus del trailer nero è sulla fazione nera neanche a dirlo anche se abbiamo comunque degli ispezioni di personaggi appartenenti alla fazione opposta come giusto che sia e avremo modo di vedere anche quelle immagini la cosa ovviamente andrà per il trailer verde semplicemente all'opposto andiamo a blocchi per commentarle e dopo aver analizzato anche il trailer verde faremo considerazioni generali su come si sposano bene insieme il trailer si apre con un'intima cerimonia funebre su Dragonstone con la presenza di quasi tutti i membri della fazione nera daemon infatti non sembra esserci possiamo distinguere distintamente re nera jace joffrey le gemelle drago belerena renis e corlis abbiamo chiuso la 1x10 con il funerale della piccola bisegna in quello che sembra essere lo stesso luogo e sulla stessa roccia sembra chiaro subito e la cosa è stata poi confermata dalle prime immagini promozionali rilasciate che la cerimonia sia in onore del defunto luceris velarion jace ha in mano i vestiti del fratello e sembra che in assenza di un corpo proprio quelli verranno bruciati per dare comunque a Luke una cerimonia funebre valeriana dove appunto i morti vengono bruciati comunque da dire qui che è una cosa molto interessante la morte di Luke quella effettiva segue un po' il rito funebre velarion che come abbiamo visto comporta il rilascio dei suoi morti in mare campolungo con la prevalenza dell'ambiente anche se questo non ci distrae comunque da ciò che sta avvenendo emerge un contesto di profonda intimità non ci sono altre persone se non i membri della famiglia e delle guardie i vestiti potrebbero non essere l'unica cosa bruciata in questa occasione però più avanti nel trailer infatti vediamo una Syrax che lancia un grido di dolore abbiamo avuto un modo di vedere sullo sfondo capotempessa e delle barche accanto ad esse quella che sembra essere Renire inginocchiato su qualcosa non ha bisogno di parlare perché Syrax lo fa per lei noi spettatori non abbiamo nemmeno bisogno di vederla per capire perché Syrax sta gridando in questo modo sembra che sia davanti ad uno dei resti di Arrax che vediamo cadere in mare alla fine della 1x10 prova ultima che il figlio è il suo drago sono davvero morti e che quello è il punto di non ritorno la fine della guerra di Lettere e Corvi e l'avvio di quella fatta dagli eserciti e dai draghi anche questo un campo lungo ma che non distrae dal momento e c'è ancora una bella sottolineatura del rapporto drago-cavaliere con il primo che sente e condivide le emozioni e i sentimenti del secondo e con Syrax e Renire abbiamo avuto occasione di vederlo molto bene nel finale della scorsa stagione quando la regina nera partoriva tutto questo si collega direttamente al primo teaser trailer vediamo infatti una Renire in lutto proprio a Capotempesta in uno scenario che riflette il suo stato d'animo splendida qui la profondità di campo è molto importante infatti che ci sia l'imponente castello Baratheon che non sembra mai abbandonare l'immagine non vuole non può forse la morte di Luceris è un punto di svolta nella storia mi aspetto quindi che queste scene avvengano nel primo episodio e che da tutto questo nasca una forte determinazione in Renire quella di prendersi il suo trono sappiamo che in Fire and Blood succede sostanzialmente l'opposto perché ci vuole un'altra morte per fargli accendere il fuoco nelle vene se così possiamo dire però è importante per determinati personaggi essere più attivi di quanto lo siano in Fire and Blood lo stesso per esempio vale per Egon II ma ne parliamo dopo un aspetto interessante qui è la presenza di Giaccaeris che tecnicamente è già partito per la sua missione se il funerale avviene subito può darsi che non passerà molto tempo nel nord o nella valle se ci passa a cominciare oppure come qualcuno ha speculato potrebbe fare più di un viaggio diplomatico inizio del trailer mostra finalmente un luogo che come lettori di Assongo West and Fire conosciamo bene in quanto fulcro di una serie di eventi narrativi non poco importanti e continuerà ad esserlo per il futuro della saga l'occhio degli dèi il grande lago situato più o meno al centro più verso est delle terre dei fiumi in mezzo al quale si trova l'isola dei volti a torreggiare sullo sfondo il castello di Arenal un altro luogo fondamentale per la storia devo dire che vedere l'isola mi ha resa incredibilmente felice specie perché è un po' come me l'ero immaginata quasi sommersa schiacciata sotto il peso della grandissima rete di alberi di gali presente uno dei pochissimi luoghi a sud del nord di Westeros dove esistono ancora questi alberi così importanti per la storia non solo l'averla vista può aprire la porta per effettivamente visitarla nel futuro della serie sappiamo effettivamente che un personaggio che abbiamo occasione di intravedere nel trailer farà una visita al luogo in futuro o almeno così alcune storie dicono e insomma diciamo che Condal si sta tenendo una porta aperta qui ma apriamo la speculazione perché inizialmente non avevo prestato enorme attenzione al drago che vola sopra il lago e l'isola diretto verso Arenal avevo quasi dato per scontato che fosse Caraxes ma la seconda visione beh il suo colore è giallo e quella è la grafica di Cyrax avevamo detto in passato che sia per Rhaenyra che per Aegon II era necessario renderli come personaggi fare una sorta di equilibrio tra ciò che fanno nel libro e l'idea che alcuni vogliono che combattano sostanzialmente solo loro cosa non esattamente fattibile a prescindere da che parte la si guardi sappiamo dalla 1x10 che Daemon ha indicato Arenal come il suo primissimo obiettivo quello è l'unico luogo che può riunire un grande esercito certo appartiene agli Strong Laris è conquistato ma appunto il suo lord non è lì e l'impresa non sembra essere incredibilmente difficile e lo vediamo in questo trailer entrare a darle non ne parliamo a breve quindi possiamo dedurre rimanga nelle terre dei fiumi con l'enorme castello come base per quasi tutta la stagione da questa immagine potremmo dedurre che Rhaenyra lo raggiunga perché a che pro in che rapporti saranno quando Daemon lascerà Dragonstone per iniziare la sua campagna sono tutte domande a cui solo la seconda stagione potrà rispondere un'altra cosa interessante che possiamo vedere dalle primissime immagini del trailer è anche la presenza di Misaria a Dragonstone la vediamo insieme a Rhaenyra guardare un drago spiccare il volo e qui possiamo dire presumibilmente Caraxes con il suo cavaliere in groppa guardatemi quanto sbaglio io sono sicura che sbaglio in qualche modo comunque Misaria la possiamo riconoscere senza problemi per il suo vestito bianco i suoi capelli ma appunto come ha raggiunto Daemon a Dragonstone non ci è dato sapere l'abbiamo lasciata con la sua rete di spie nella capitale distrutta la sua casa a fuoco ha senso pensare si voglia venticare di questo affronto potrebbe iniziare qui una sorta di battaglia l'ultimo colpo tra lei e la re strong volendo ma ciò che davvero mi piace di questa immagine è che c'è un modo di introdurre con calma il rapporto tra Misaria e re nire e l'influenza che la prima avrà sulla seconda in fallire in blood la cosa si legge inizialmente tra le righe poi più esplicitamente e colmina con le parole di demon una volta che la moglie gli invia un certo ordine che ha soltanto la sua firma e infatti considera le parole della regina il lavoro di una puttana penso che inserirle immediatamente a dragonstone e non aspettare più avanti come in fire and blood sia una scelta intelligente per me migliore anche dà anche la possibilità sono ya mizuno di finalmente brillare nel suo ruolo perché davvero è una brava attrice e mi è dispiaciuto vederla poco valorizzata nella prima stagione quindi speriamo in questa seconda andando avanti è il thriller della fazzere nera ma appunto non manca la presenza di quella verde e la stessa cosa vale anche per il thriller dedicato a loro avevamo già detto la scorsa volta che la presenza della simetria nella sala del trono potrebbe continuare ad esistere specie con membri che magari si appartengono alla stessa fazione ma possono essere in conflitto tra di loro per una ragione o per l'altra la cosa va da sé vale anche per la fazione nera abbiamo avuto modo di vedere la cosa per entrambi nella 1x9 e la continui quindi vediamo Igon entrare nella sala del trono e anche qui non è mai inquadrato frontamente seduto su di esso ma sempre a tre quarti ed è una scelta curiosa che hanno fatto anche nei poster questa inquadratura invece è molto interessante abbiamo un panchetto a Dragonstone c'è la presenza della guardia reale Rhaenyra siede a capotavola con la corona in testa alla sua promessa di Jace di conseguenza futura regina consorte dei sette regni ma gli altri commensali sono i semi di drago possiamo riconoscere infatti Clinton Liberty nei panni di Adam Di Hulle e Kieran Blue in quelli di Hugh Martello entrambi erano stati visti nel primo teaser trailer il primo alle prese con Seasmock che sembra seguirlo come un cagnolino e il secondo invece nella rivolta di King's Landing Di fronte a Rhaenyra potrebbe esserci Tom Bennet che interpreta Ulf il bianco vista poi così infatti la parrucca sembra essere più sulle sfumature del grigio e non abbiamo personaggi con una parrucca di questo colore al momento possiamo quindi piazzare un banchetto più avanti nella stagione composto da cavalcatori di drago chi con esperienza perché cosa non significa che sia meno feroce in questa occasione Rhaenyra ribadisce che è sua intenzione combattere questa guerra annuncia quindi il suo ruolo attivo effettivamente oltre che la corona sulla testa indossa un vestito spigoloso nero e rosso come la sua casata il simbolismo dei draghi presenti in ogni dove è autoritaria se la costumista caroline mccola ha seguito la stessa linea di genitemim con i costumi di cui abbiamo parlato nell'ultimo video uscito sul canale in questa occasione Rhaenyra emana potere andando avanti finalmente vediamo Jason Nord e intravediamo Cregan Stark interpretato da Tom Taylor i due in Fire and Blood legano non poco sono entrambi giovani ed entrambi hanno un peso non indifferente che portano sulle spalle Cregan poi può capire bene Rhaenyra anche se per un po' almeno il padre Rickon muore quando è ancora nella sua minore età il che fa sì che suo zio Bernard venga appuntato come reggente quando però Cregan raggiunge i 16 anni la maggior età in quel di Westeros lo zio è molto pigro a rilasciare il potere e nel corso del tempo si è anche creata la sua catena di supporters le tensioni crescono e ci vogliono due anni al giovane lord di Winterfell per riprenderli il potere sul nord facendo imprigionare zio e cugini i suoi figli continuo a sostenere che sarebbe molto interessante non solo sentire la storia che in realtà mi aspetto ma anche possibilmente vedere Bernard Stark e i suoi tre figli imprigionati Cregan che li mostreggia come prova di ciò che è successo sì ma anche di ciò che la loro fazione deve fare l'idea che non siano uccisi è sempre quella il ginslaying lo sterminatore dei propri consanguini barra parenti è uno dei grandi tabù esterosi nessun uomo è il maledetto di uno sterminatore di parenti dice il detto certo c'è forse da mettere un asterisco 2 ma tant'è l'ambientazione della scena è interessante perché più che Winterfell sembra la barriera effettivamente in diverse riprese fatte da un drone nel backlot degli studio di Livestyn dove viene girata House of the Dragon viene fatto vedere un set di un grande muro di ghiaccio con porticati e fuoco l'are c'è quindi da chiedersi perché Cregan porta Jace alla barriera di cosa discutono oltre che la possibilità del Nord di entrare in guerra a supporto di Rhaenyra Ryan Condal nell'intervista rilasciata a Entertainment Weekly in occasione del rilascio del trailer parla di un giovanissimo lupo con un forte peso sulle spalle è molto potente tutti si contendono il suo esercito è molto più giovane di quanto lo fosse Ned Stark quindi è interessante vedere il giovane lupo il giovane Lord Stark e come si comporta nel mondo e il peso che ha sulle spalle essendo il protettore del nord sono entusiasta che il pubblico lo veda e lo sperimenti penso che sia interessante qui l'idea di toccare la questione estrane o meglio l'oscurità che arriverà e che verrà dissipata dalla luce dei draghi il sogno di Aegon sostanzialmente esso mette in prospettiva non poche cose dichiarazioni di George R. Martin comprese e se il segreto è tramandato da re ad erede non è da escludere che Rhaenyra abbia parlato a Jace abbia sottolineato quanto avere Cregan Stark dalla propria parte sia fondamentale anche per questa ragione questo giovane lupo effettivamente almeno in Fire and Blood sembra essere un poco interessato alla questione di nuovo la cosa non ci viene detta esplicitamente ma ne parlo in modo approfondito nel team full scamming dedicato a lui potete trovare il link in descrizione come verrà adattato il patto del ghiaccio del fuoco è da vedere poi ma forse i pochi fotogrammi del nord in questo trailer ci danno un indizio o due una chicca sulle spalle di Cregan possiamo vedere Ice ghiaccio la spada ancestrale di casa Stark parlando di verdi nel trailer possiamo vedere finalmente Freddy Fox nei panni di Gwyn Tower Ryan Condal ha elogiato la sua performance attoriale e ciò che ha avuto modo di portare a Gwyn quindi ora sono molto curiosa di vederlo all'opera il contesto sembra essere di guerra lo vediamo in armatura a cavallo anche corazzato e dietro possiamo vedere gli uomini dell'esercito Diego un secondo con il sigillo sul petto le ferite potrebbe essersene procurate in battaglia oppure nostra da vedere una cosa interessante qui è che sta guardando in alto verso il cielo sono arrivati i draghi potremmo forse collocare questo shot nella 2x04 l'episodio che sarà dedicato al riposo del corvo una delle grandi battaglie della stagione da un verde ad un altro ed è particolarmente interessante il contesto nel quale si trova Eamond non sappiamo bene dove sia ma il morale sidro di lui è la distruzione di Arenal riconoscibile per le cinque torri da parte di Egon il conquistatore il contesto interessante sembra quasi onirico c'è un'aura di mistero e inquietudine che aleggia dove si trova al momento non c'è dato sapere Arenal stessa potrebbe essere un'idea in quel caso una scena così si collocherebbe verso la fine della stagione ma ci sarebbe da chiedersi quanto che i draghi possano distruggere anche una fortezza di questo genere e di comportarsi quindi di conseguenza voi dove pensate si trovi sempre sui verdi possiamo vedere in primo piano un otto e tower non esattamente entusiasta e un talent lannister dietro di lui che probabilmente ha un'opinione avversa o due dipinta sul volto ma chissà se è pronto ad esprimerle l'ambiente scuro illuminato da torce con grandi colonne non sembra essere la strada del concilio ristretto per quanto loro ne siano membri c'è da chiedersi quindi dove sono e perché stanno comportando qualcosa e se sì cosa nelle prime immagini con presente corris velarion possiamo probabilmente vedere la sua nave la seasnake in via di riparazione ricordiamo infatti che il lord nella 1x08 era ferito il suo destino incerto riparata il modo in cui è costruita l'inquadratura è sempre bello è al centro che torreggia su tutti la sua nave quasi un'estensione del suo corpo ha senso effettivamente che torreggi su tutti se mi nascosta dai capelli possiamo vedere la spilla di primo cavaliere della regina in circostanze normali sarebbe quindi non solo l'uomo più ricco ma anche il secondo più importante del regno primo visto che la regina è una donna e appunto qui sta colloquiando proprio dicendole che deve schiacciare la minaccia ai tower immediatamente in falliera in blood corlys diventa primo cavaliere a seguito degli eventi di riposo del corvo ha senso pensare che diventi quindi molto più duro quasi spietato almeno per un po' se anche nella serie assumerà il ruolo dopo questi eventi va da sé non è detto possiamo vederlo per esempio indossare gli stessi vestiti in una seals con la moglie quindi sarà da vedere abbiamo poi una serie di fotogrammi che puntano a demon all'interno di arrenal l'atmosfera è lugubre piove è notte e sembra che ci sia qualcosa nel castello di profondamente sbagliato che non sembra permettere al principe ribelle di stare tranquillo ora fire and blood vuole che prenda arrenal senza spargimenti di sangue ha senso forse pensarlo per quanto dico un drago e armatura sarà interessante quindi vedere cosa succederà altrettanto interessanti sono le considerazioni di ryan condal riguardo arrenal è indubbiamente un personaggio a sé stante nello show che se reale o che siano dicerie ha un'aurea soprannaturale intorno che spaventa le persone eravamo entusiasti di interpretare questo aspetto come narratori anche qui c'è da dire che l'atmosfera sia quasi onirica quale post migliore di arrenal effettivamente cosa che sostanzialmente fa sospettare che emond nell'inquadratura di sopra sia nello stesso luogo semplicemente in tempi diversi c'è un personaggio che reside lì anche se nel trailer non si vede che potrebbe contribuire senza alcun problema a conferire quest'aurea magica inquietanta al castello Alice Rivers interpretata da Gail Rankin per quanto Fire and Blood non ci dia dettagli ha senso pensare che la donna interagisca anche con Daemon durante il suo soggiorno ad Arrenal e sarà interessante vedere come e in che modo il principe potrebbe immergersi e fare i conti con una magia lui sconosciuta ma che sarà importante per lui generalmente c'è anche da dire che è scettico su queste cose a differenza del fratello Viserys e anche questo quindi è un aspetto interessante da considerare potrebbe anche essere stato fatto un foreshadowing nella 1x04 ma ne parleremo a tempo debito certo Daemon è una grande parte attiva almeno all'inizio della stagione se non oltre lo vediamo volare di qua e dirà nelle terre dei fiumi mentre l'esercito nero si raduna questo shot in particolare è interessante come già detto sembra quasi porsi nei panni del conquistatore ponendo le casate nemiche di fronte ad una scelta autoritario spigoloso ingroppa al suo drago che lo sappiamo sa essere non poco terrificante a mio parere questo shot viene da inizio stagione mettiamolo intorno alla 2x02 secondo me è la presa di Stonehenge ma vedremo una volta andati in onda la puntata certo è che nei due trailer sta venendo neanche troppo sottilmente introdotta la faida a Blackwood Bracken quindi ha senso che sia in quelle zone lì ecco anche un non lettore sa che le due casate non vanno per niente d'accordo della prima stagione ma avrà modo di capirne l'estensione nella seconda a mio parere con l'introduzione di una serie di personaggi non poco interessanti la cosa per me è intelligente anche per un'altra ragione ma ne parliamo dopo a prescindere sembra che la campagna di Daemon stia avendo il suo successo nelle terre dei fiumi in questa scena lo vediamo con i suoi vassalli in un concilio di guerra o giù di lì possiamo forse intravedere Simon Strong interpretato da Simon Russell Bill l'ormai anziano castellano di Arenal sarà molto interessante vedere come si giocheranno il suo personaggio in realtà lo dissi in passato non casti un attore di tale portata senza fargli avere un ruolo di tutto rispetto nella mia mente potrebbe avere un ruolo simile a quello di Brindenthali il pesce nero a prescindere sarà interessante anche in vista di scene future che coinvolgeranno altri personaggi capire il suo approccio alle cose come gestisce Arenal i suoi uomini e i membri di casa Strong rimasti al suo interno legittimi o meno e il rapporto che si va a formare con i Targaryen di turno torniamo un momento ai verdi e a King's Landing però uno dei contrasti tra trailer sta anche nell'approccio delle due fazioni alle cose se il funerale di Luceri si è intimo quello a cui Alice senza Delena stanno partecipando qui è quasi una parata più che una processione ci sono dei carri e cavalli e tamburi e uomini in armatura sarà interessante vedere in quali altri modi le due fazioni saranno messe a confronto un primo piano di Egon secondo nella Fortezza Rossa andando avanti sembra vestito a lutto e non sembra essere particolarmente entusiasta da notare le decorazioni ci sono ancora gli arazzi e per la 1x08 esse si trovano solo nelle stanze di Viserys possiamo quindi pensare che il nuovo re si sia trasferito proprio lì come Elena presumibilmente si è trasferita nelle stanze di Alicent la cosa ha un valore pratico quella del riciclo dei set se così la vogliamo chiamare farli tutti ex novo da una stagione all'altra anche se con un alto budget disponibili può risultare controproducente e questa cosa la dico solo perché ho visto qualcuno in certe piattaforme lamentarsi di alcuni ambienti le loro ripetizioni diciamo così pensando a differenze sostanziali tra libri e serie che possibilmente potrebbero derivarne sostanzialmente è un invito a stare tranquilli il mio poi l'estensione dei cambiamenti la vedremo man mano che vedremo la seconda stagione sul trasferimento di Aegon nelle stanze di Viserys ne parliamo più avanti quando analizziamo bene il trailer verde comunque Aegon è in compagnia del nonno vista l'atmosfera non molto serena potremmo pensare che la posizione di Otto come primo cavaliere sia sull'oro del baratro specialmente dopo gli eventi di sangue e formaggio e parlando proprio di quei due e qui se davvero volete il minor numero di spoiler possibili vi consiglio di andare avanti al timestamp che trovate in sovrimpressione la cosa avverrà nel primo episodio della stagione di cui già sappiamo il titolo figlio per figlio a ripresa da Fagliar and Blood del messaggio che Daemon già a Darlenal quando arriva la notizia della morte di Lucerys manda alla moglie con la promessa che il principe sarà vendicato occhio per occhio figlio per figlio e in mondo l'abbiamo già detto non ha figli Egon però ne ha tre dalla moglie estrella Erena due gemelli che abbiamo avuto occasione di vedere nella 1x08 e un figlio più piccolo che al momento non sappiamo se esiste o meno anche se sarebbe decisamente utile se stesse per il futuro della serie certo ma anche per gli eventi legati a queste due figure Jaerys è erede designato c'è poi la gemella Jaera e il piccolo Melor a soldati per vendicarsi della morte di Lucerys da parte di Daemon che si è servito di misaria i due mettono Elena di fronte alla scelta di Sophie quale dei due figli maschi vuole perdere? ne vogliamo solo uno per pareggiare i conti dicono la donna disperata sceglie Melor per due ragioni è più piccolo dei primi due quindi deduce che non possa capire e appunto non è l'erede al trono di spade i due però uccidono comunque Jaerys indubbiamente il piano fin dall'inizio la reazione a seguito della cattura e conseguente tortura di uno dei due che svela i dettagli del piano porta Otto Itower a prendere una decisione drastica per quanto riguarda i catturatori di topi nella fortezza rossa gli unici che conoscono davvero l'estensione di tutti i suoi tunnel segreti che hanno permesso il compiersi di questa tragedia li fa uccidere tutti uno per uno e vengono sostituiti da un vero e proprio esercito di gatti e ammetto che sarebbe stupendo per il resto della serie vedere ogni tanto un gatto o due sullo sfondo nelle scene ambientate nel castello un po' come abbiamo visto spesso i ratti nel corso della prima stagione Aegon qui è in un luogo buio debolmente illuminato da delle torce e dietro di lui si può identificare l'Ary Strong ha senso pensare che siano le segrete visto il ruolo del nostro lord di Arnal e che Aegon stia scaricando la sua furia o su uno dei catturatori di ratti o su sangue stesso potrebbe anche sferrargli il colpo finale volendo dopo i 13 giorni di tortura di due infatti è proprio l'ex sergente delle cappe dorate che viene catturato mentre cerca di uscire dalla capitale con la testa del piccolo principe formaggio l'effettivo catturatore di topi non verrà mai più ritrovato nonostante le ricerche certo l'uccisione di massa dei catturatori di topi non è l'unica cosa che consegue da sangue formaggio ma a mio parere contestualizza la scena Aegon poi è inquadrato dal basso verso l'alto sembra quasi un dio che dà giudizio ed è una cosa che ritengo interessante parlando di conseguenze di sangue formaggio vediamo Arric che combatte ferocemente e possiamo dire che lo sta facendo guardandosi allo specchio la stessa scena è anche nel trailer verde e uno potrebbe dire lì ah ma Eric perché appunto siamo a specchio la stessa scena c'è stata anche mostrata nel primo teaser trailer sembra quindi vogliano concentrarsi non poco su questo evento in particolare che avverrà comunque nei primi episodi della stagione quindi sarà interessante vedere che tipo di focus sarà fatto sui gemelli cargill andando avanti per quanto meno del trailer verde possiamo vedere delle scene di battaglia che corrispondono tra l'altro una cosa a mio parere è particolarmente interessante in questo contesto però Bela Targaryen ingroppa la sua moon dancer non sembra semplicemente volare nel cielo sembra proprio essere presente in una battaglia di nuovo è necessario rendere più attivi alcuni personaggi sia della fazione nera che nella fazione verde e vedere Bela i moon dancer in un certo modo è utile per il futuro della stagione c'è da chiedersi però se si trova a riposo del corvo perché è lì? possiamo vedere che il drago è abbastanza piccolo infatti molto veloce il che cosa buona ma forse non è in grado di combattere con i draghi decisamente più grandi e anziani è andata lì di nascosto o la sua presenza è in qualche modo programmata? altre cose interessanti del trailer nero quindi abbiamo modo di vedere non pochi draghi da Vagar a Caraxes a Cyrax e appunto il debutto di Moon Dancer che nel libro Making Of era descritta in modo molto interessante l'abbiamo vista poco e al momento rispecchia ciò che ci viene detto in Fire and Blood è molto veloce di conseguenza non l'abbiamo vista benissimo ma sarà interessante vedere come il concept è stato tradotto nella grafica si vede meglio nel trailer verde il pattern che ha sulle ali ma ne parliamo un pochino meglio lì c'è poi un'abbondanza di primi e primissimi piani entrambi hanno una funzione sostanzialmente psicologica sono inquadrature usate a sottolineare la psicologia del personaggio con rilevanza su emozioni e sentimenti e conferire un aspetto più drammatico all'azione nel caso del primissimo piano con il quadro riempito dal volto dell'attore l'attenzione è sui minimi cambi di espressione altra piccola chicca per concludere le trecce di Rhaenyra che la avvicinano sempre di più alla sua controparte letteraria che intrecciava i suoi capelli per emulare Visegna Targaryen la regina guerriera bene ora passare al trailer verde anche qui cominciando dalle parole per poi passare alle immagini la prima a parlare è la regina vedova all'isandai tower solo poche settimane fa il mio lord marito era vivo e il regno era in pace sul suo letto di morte sapeva che il regno non avrebbe mai accettato una regina i sostenitori di Rhaenyra crederanno a ciò che vogliono ma Viserys voleva che Aegon gli succedesse la frase è spezzata la prima parte è detta Larry Strong sulla seconda l'interlocutore è ignoto ma la sostanza è la stessa se torniamo al trailer nero sta dicendo la stessa cosa che dice Rhaenyra all'inizio entrambe parlano infatti di Viserys sottolineando la sua volontà la prima nei suoi riguardi e la seconda nei riguardi del figlio tutto nei due trailer è sostanzialmente così uno specchio di parole immagini e suoni mentre Alicent dice ciò vediamo una fortezza rossa che cambia diventa il castello di Aegon II con i suoi standardi ma al contempo vediamo un concilio ristretto che sembra più un concilio di guerra e vediamo il castello attrezzarsi di mezzi difensivi contro i draghi nemici il secondo a parlare è Otto Eitauer ora non desiderano il bene del regno ma la soddisfazione della vendetta Otto ha un'opinione o due a proposito di quello che fa la fazione nera specialmente come potrebbe significare la frase dopo la morte di Luceris presumibilmente i fatti di sangue e formaggio sembra decisamente preoccupato e Alicent con cui parla nella scena lo sembra altrettanto per come si muove potrebbe essere un mezzo a due eventi magari il blocco navale sta già portando i suoi disturbi e arrivano notizie non incoraggianti delle terre dei fiumi o un messaggio minaccia stile occhio per occhio figlio per figlio o potrebbe essere dopo quei terribili fatti il punto è che il primo cavaliere per un momento sembra vacillare ma si riprende ne parliamo a breve finalmente poi sentiamo parlare Egon secondo e lo fa un po' nel trailer verde complottate contro il re e vi ripagherò cento volte tanto anche qui le immagini di accompagnamento sono emblematiche perché sta avvenendo proprio quello di cui sta parlando sembra quasi che Egon abbia qualcosa da dimostrare per tutta la sua vita è sembrato disinteressato pigro debole quasi ma la sua incoronazione nella 1x09 l'ha cambiato non poco e deve dimostrare questo cambiamento su queste note c'è la frase successiva sono temibile come tutti loro non è chiaro di chi stia parlando ma c'è una lista di possibili persone la fazione nera certo ma anche diversi personaggi all'interno della sua Imund Christon chissà persino Daron certo si può pensare quel che si vuole di lui ma le immagini ci sottolineano che in bene e in male rimane un drago e per la prima volta in questa occasione vediamo Sunfire in tutta la sua magnificenza la parola poi torna ad Alicent non hai idea dei sacrifici che sono stati fatti per metterti sul trono Egon forse è più consapevole di quanto Alicent gli conferisca credito specie dopo la conversazione che i due hanno nella carrozza nella 1x09 poco prima della sua incronazione ha senso pensare che vacilli almeno per un momento la nuova sicurezza l'ha appena trovata in fondo e che tocchi ad Alicent ricordargli che a quel punto già è oltre quello di ritorno e non può permettersi di crollare adesso per se stesso per il regno volendo ma soprattutto probabilmente da come la interpreto io anche in base alle altre cose che dice nel trailer per se stessa e i suoi sacrifici andando avanti anche Eamond prende parola mio zio è una sfida che accolgo volentieri se ha il coraggio di affrontarmi Eamond a differenza del fratello maggiore è decisamente più sicuro di se stesso forse qualcuno direbbe un po' troppo Demo nella sua nemesi ma al contempo il suo riflesso allo specchio che lo guarda indietro la costruzione del loro rapporto e la loro futura sfida è molto marcata a partire dalla 1x08 ed è molto bello vedere nel trailer che la cosa sembra essere destinata a crescere sarà interessante da vedere e che strada prenderanno nello sviluppo di questa dinamica la parola poi torna ad Otto questa volta un po' più sicuro di se stesso un uomo politico più che di armature e spada sappiamo che la guerra se possibile la vuole evitare ma ormai siamo al punto che la cosa non può essere fatta e tutti compreso il suo interlocutore che non sappiamo bene chi sia ma io sospetto Alicent devono sapere cosa questa compete prevarremo e porteremo la pace ma devi accettare che la strada della vittoria ora è quella della violenza questa frase si collega direttamente a ciò che Egon II dice subito dopo bene in guerra allora a mio parere però lui sta rispondendo a qualcos'altro o a qualcun altro sarà quindi interessante vedere che succede a prescindere i dialoghi dei trailer sono costruiti ad hoc e questo non fa eccezione e si sposa molto bene Egon si presenta come l'esatto opposto di Rhaenyra che per quanto si cura di se stessa è consapevole del peso che comporta andare in guerra e dividere un regno specie con il segreto che il padre le ha condiviso che costudisce Egon questa cosa non la sa può dedurre anche lei probabilmente ma lei si eppure sta andando comunque avanti per tale strada assumendosi quindi un terribile rischio e per ciò che ha cominciato Egon a tratti sembra invece pensare che tutto quello che sta succedendo sia un gioco o una possibilità per lui per provare ad essere beh un Targaryen il peso della guerra però a metterla in parallelo diretto con Rhaenyra una persona lo sente allo stesso modo e quella persona è Alicent tutto ciò che sta succedendo sta avendo un effetto non indifferente su di lei infatti per tutta la vita ho cercato di servire sia la mia casata che il regno e in qualche modo nulla di tutto ciò ha importanza sembra che tutto stia in qualche modo crollando intorno a lei e le immagini di accompagnamento lo testimoniano per tutta la sua vita ha fatto tutto ciò che le è stato chiesto senza se e senza ma per il nome della sua casata la più potente dell'alto piano per il nome del regno di cui è stata regina per così tanti anni dando al re dei figli maschi quelli che lui tanto desiderava è rimasta una pedina in silenzio a testa china pensando che un giorno tutto quello sarebbe tornato indietro in qualche modo sotto una forma di ricompensa ma dovunque si giri qualsiasi cosa che vede le dice l'esatto opposto ha fatto tutto e anche di più e nulla importa davvero e chissà da cosa è corredato un'affermazione del genere quali eventi possono averla portata a dire ciò o a fare ciò che fa nelle immagini che vediamo sarà decisamente interessante scoprirlo il trailer si chiude con un'esclamazione di christian cole prima di quella che sembra essere una battaglia mantenete il vostro coraggio per l'unico vero re egon ecco da ix sappiamo anche quando la dice e in che contesto qui possiamo semplicemente dire che ha lo stesso valore di demon che nel trailer nero urla combattiamo per la nostra regina incita incoraggia fai in modo che l'esercito nel profondo creda a ciò che stanno facendo per combattere con feroce in battaglia a nome del drago quello dorato o quello rosso che sostengono e dopo le parole passiamo alle immagini il trailer si apre con Alicent nel tempio di Eppodo del Re intenta pregare una pista che non è poi così strana l'abbiamo vista spesso fare una cosa del genere e non mi aspetterei qualcosa di diverso per questa stagione sembra in questo shot che la sua stessa fede quasi la ingoi la sovrasti come lo stesso Ryan Condale e il suo team hanno spiegato numerose volte uno degli aspetti identitari della regina vedova e ovviamente degli Eightower mentre Alicent però in alcuni aspetti è ferma nel tempo intorno a lei le cose cambiano a cominciare dalla fortezza rossa che diventa il castello di Egon II gli standardi con il sigillo Targaryen sostituiti da quel suo personale il drago dorato su sfondo verde è il perfetto accompagnamento per ciò che Alicent sta dicendo poche settimane prima Viserys era vivo e regnere in pace e ora con tutti quei cambiamenti si prepara alla guerra effettivamente sembra essere proprio ciò che vediamo l'idea che il grosso delle discussioni al concilio ristretto riguardino proprio i primi passi verso di essa dal blocco navale di Corlys ai primi eserciti che si muovono passando va da sé per il ritorno a casa di Emon con la notizia che qualsiasi sforzo fatto dei membri seduti intorno a quel tavolo Otto in particolare è andato in fumo con la morte di Lucerys è scontato che la guerra si faccia e ci si deve attrezzare per essa Alicent sta dicendo tutto questo a Larry Strong che riconosciamo in questo fotogramma dal suo bastone la cosa fa collegare il tutto con ciò che la regina vedova ha detto nel primo teaser trailer quindi ci sarà una guerra molti moriranno possiamo pensare di collocare questa considerazione specifica dopo due momenti il primo il ritorno di Emon della conseguente notizia della morte di Lucerys il secondo a seguito dei fatti di sangue e formaggio e nel mentre la fortezza rossa si attrezza con degli scorpioni mette in campo quindi delle pesanti difese contro i draghi della fazione nemica io qui non lo so ma secondo me i Dorniani gli staranno andando a chiedere qualcosa perché gli hanno rubato il brevetto da qualche parte mentre bruciavano castelli quando si stavano vendicando per Reni Stargaryen la prima io qua lo dico comunque andiamo avanti anzi no prima consideriamo il fatto che è una bella strizzata d'occhio sappiamo che è in lavorazione uno spin off sulla conquista di Egon quindi insomma è ben voluto questo riferimento è ben voluto intanto Egon il secondo si è del trono di spade possiamo ancora vedere sul petto di Otto e Tower la spilla di primo cavaliere anche se non possiamo esattamente dire che l'atmosfera sia tranquilla Otto non sembra sereno per niente ora una cosa interessante che emerge spesso nell'inquadratura dei personaggi verdi è che la simmetria che comunque è presente in entrambi i trailer è leggermente sballata come se l'asse fosse spostato la cosa interessante perché se parleremo in modo migliore una volta che debutterà la serie intanto però lo faccio notare intanto possiamo vedere che la chiamata dei vestili delle terre dei fiumi ha avuto il suo successo vediamo Daemon in armatura sovrastare un mare di tende la chicca è il loro colore il nero quello della fazione di appartenenza certo Daemon non è lì fin da subito anzi per quanto possiamo pensare di vedere il radunarsi dell'esercito nei primissimi episodi a mio parere la 2x01 sarà uno specchio della 1x01 vedendo quindi Daemon partire alla fine verso il suo obiettivo quello di Arrenal perché inizialmente ha cose da fare sì e quelle cose possiamo vederle proprio qui la cappa dorata che osserva qualcuno mettere una bussa contenente presumibilmente del denaro è infatti il personaggio di sangue interpretato da Sam Wilson ora uno dei primi leaks riguardanti la stagione parlava proprio di Daemon che si recava personalmente a King's Landing ad assumere i due malviventi potendo servirsi sì di misaria come in Fallier and Blood ed effettivamente la vediamo a Dragons nel trailer nero ma comunque avere una parte più attiva in questo complotto rendendo quindi subito chiaro l'artefice di ciò che sta per succedere potremmo forse dire di riconoscere il suo mantello delle cattive intenzioni come i nostri amati Patreon s'hanno chiamato il mantello suo e di Aemond che indossano quando fanno cose rosche e il fotogramma successivo è diretto a continuazione di questo tralasciando la costruzione dell'immagine a mio parere molto bella ecco sangue e formaggio che regge la torcia che si addentrano nei tunnel segreti della fortezza rossa con una destinazione ben precisa questi due fotogrammi si collegano direttamente a quello dove formaggio mette un coltello alla gola di Elena nel primo teaser trailer poi insomma cosa allegresi il tutto mentre Egon parla del fatto che se si complotta contro il re ovvero lui beh si verrà ripagati cento volte tanto di nuovo una fantastica costruzione su questo fatto specifico Ryan Condal nell'intervista di accompagnamento al trailer su Entertainment Weekly ha qualcosa da dire il loro arrivo infatti è stato anticipato da tempo con un continuo ripetersi di immagini nella prima stagione e per quanto la loro presenza sarà breve lasceranno un forte impatto all'interno di House of the Dragon le cronache del ghiaccio del fuoco e Game of Thrones hanno davvero condizionato le persone ad aspettarselo inaspettato e ad aspettarselo orribile ma sì questo è piuttosto ripilante vedremo cosa ne penserà la gente di quello che verrà la cosa che a me personalmente terrorizza è che Sangue non sembra avere qualcosa di particolarmente simpatico o che almeno garantisce una morte veloce in mano quella infatti è una mazza va da sé è della guardia cittadina si può pensare abbia una spada e che sia anche un abile spadaccino ma probabilmente chi ha letto i libri ha un po' più di paura di chi non l'ha fatto ecco non so sentite il mio tono impanicato io spero di sì perché sto panicando da quando ho visto quella scena sappiatelo comunque qui inizia una delle mie parti preferite in entrambi i trailer possiamo vedere Egon che si prepara per la guerra indossa armatura e gli viene dato persino un elmo con la riproduzione della corona del conquistatore l'immaginario di questo personaggio sta effettivamente cercando di essere ricreato in entrambi i trailer Daemon si mette nelle sue vesti quando pone i nemici di fronte alla scelta di inginocchiarsi e bruciare ed Egon beh porta il suo nome ed è il secondo re ad averlo stanno cercando di cucerli addosso quell'immagine presentandolo come un re guerriero coraggioso sicuro di sé sostanzialmente togliendogli l'immagine di principe pigro e personaggio con ben poca moralità che abbiamo conosciuto fino ad ora e che forse anche il popolo di King's Landing conosce Egon stesso ha bisogno di tale validazione come dicono le sue parole che accompagnano l'immagine lo vediamo qui approcciare Laris Strong possiamo forse pensare che sia lui stesso il curatore di questa nuova immagine che gli stia spiegando il perché dell'elmo magari anche raccontando qualche storia su quella che indossava il conquistatore in guerra o giù di lì ma Laris non è esattamente amato ed è facile far arrabbiare Egon potremmo aspettare che dica qualcosa di inopportuno che non sia per niente gradito Egon ha bisogno della validazione che sia spaventoso tanto quanto i suoi avversari e i suoi fratelli quelli che conosciamo almeno e tutti devono riconoscerlo non ha bisogno di considerazioni aggiuntive da parte del loro confessore e maestro di sussurri come ho detto prima però a prescindere da qualsiasi insicurezza possa avere la vista di Sunfeier proprio dopo aver detto quelle parole parla chiaro in bene e male tutti i targarini in questa storia sono draghi Alicent sembra comunque capire le insicurezze del figlio e non vuole che abbandoni tutto adesso ricordandogli dei sacrifici fatti per metterlo lì anche questa immagine è costruita molto bene madre e figlio sono seduti sui lati opposti del tavolo vicini ma incredibilmente lontani al contempo il loro rapporto ma è stato davvero solido che scricchiola sempre di più ma Egon deve questo ad Alicent almeno lei potrebbe pensare così perché ha fatto tutto per il regno e vedere il figlio maggiore sul trono è il minimo di ricompensa per i suoi sacrifici ora è vero che l'ho già detto quando stavo parlando del trailer nero ma cosa curiosa ma neanche troppo riconoscete la stanza giusto? la razza dietro può già dirvi tutto ovvero il fatto che quella è la stanza di Viserys se Egon si è trasferito perché il remodeling diciamolo così che hanno fatto i verdi quando Viserys era convalescente ha praticamente fatto tirare giù tutti gli arazzi che rappresentavano le nudità all'interno della fortezza rossa tuttavia manca qualcos'altro in questa stanza ed è qualcosa che si trovava proprio davanti a quella finestra dove c'è adesso il tavolo il modellino di Valeria chissà se mai avremo modo di rivederlo andiamo avanti anche nel trailer verde vediamo Demon arrivare ad Arren a lei ad essere tormentato da qualsiasi aura possa essere legata ad esso arriva di notte con una pioggia torrenziale il suo Arcaraxe su un vero e proprio demone nella tempesta eppure tra quelle mura che Arlen il nero ha costruito con il sangue anche una persona come Demon Targaryen ha da temere l'attenzione poi si sposta su Emon e lo vediamo in due modi differenti esattamente come vediamo lo zio a sottolineare il gioco di parallelismi che stanno facendo e che io personalmente apprezzo molto abbiamo fotogrammi dove cammina per sale buie e anche qui ci sono dei tratti quasi onirici esattamente come Demone in quel di Arrenal non sappiamo esattamente dove si trova Emon ma fa riflettere lo vediamo però parlare anche con Christon Cole in sede di concilio ristretto barra di guerra e parla proprio dello zio una sfida che non teme anzi è convinto che Daemon sia spaventato da lui torna da Capotempesta quindi cambiato ancora una volta forse addirittura più di quanto è cambiato nel momento in cui ha reclamato Vagar e parlando di concilio mi piace la sua presenza nella sala che sia comunque una parte attiva dopo riposo del corvo dovrà assumere un ruolo interessante e vederlo nei luoghi dove si consuma e avvengono le decisioni politiche verdi potrebbe aiutare molto lo spettatore nella transizione se così la possiamo chiamare Emon avrà un aumento di potere e per quanto sia spietato e crudele e parecchio concentrato sul combattimento come abbiamo avuto occasione di vedere sappiamo anche da lui stesso che ha studiato a differenza del fratello maggiore e sarà interessante vedere in che modo giocherà il gioco dei troni certo prima deve affrontare una terribile conseguenza di ciò che è successo a Capotempesta e sarà interessante vedere come reagirà al tutto Fire and Blood infatti non si focalizza in alcun modo su Emon ma qui c'è l'opportunità di esplorare anche la psicologia di questo personaggio penso siano molto interessanti i fotogrammi che abbiamo avuto sul corteo funebre sia di questi trailer che nel primo teaser trailer è un simbolo di netto contrasto tra le due fazioni la cerimonia intima contro una parata sarà interessante la dinamica quindi dal primo teaser trailer possiamo pensare che non finirà bene infatti nonostante qui vediamo un popolo piangente sappiamo che c'è non poco malcontento possiamo anche pensare siano affamati visto il blocco navale e la cosa potrebbe portare a disordini al contempo Larry Strong sta tessendo la sua ragnatela e mostrare determinate cose al popolo aiuta a costruirla in un certo modo un'altra delle mie immagini preferite del trailer ora Blackwood e Bracken innanzitutto i costumi che ritengo fantastici con i colori delle rispettive casate e i sigilli in pieno petto ma anche là a mio parere tripla funzione di inserire una cosa del genere da una parte il preludio di una delle primissime battaglie della danza dei draghi quella del murino in fiamme che vede come protagonisti i propri Blackwood giurati Rhaenyra e i Bracken giurati a Dagon Ryan Condal poi ha fatto un commento che mi ha fatto un po' saltare dalla sedia e qui vengono appunto le restanti due la prima stagione era incentrata sulla famiglia reale quell'1% dell'1% superiore che governa tutto il mondo tutte le persone che avevano un punto di vista nello show avevano essenzialmente i capelli d'argento quello che secondo me mancava nella prima stagione non per omissione ma semplicemente perché non era rilevante per la storia è la gente comune la piccola gente di questo mondo che porta un certo colore e una certa consistenza gran parte del divertimento del conflitto e dell'umorismo che sono venuti fuori dall'originale Game of Thrones è stato spingere l'alta nobiltà in una stanza con Bron o il Mastino in caso qualcuno non lo sappia il Mastino è uno dei personaggi preferiti in assoluto di Ryan Condal in A Song of Ice and Fire quindi è ovvio che lo citi ovunque e io approvo questa cosa comunque ve l'avevo anticipato prima secondo me c'è stata anche un po' l'idea di introdurre subito la faida Blackwood Bracken anche in vista della serie Il Cavaliere dei Sette Regni che inizierà la produzione il 3 giugno e chissà se tutto va bene potremmo vedere sui nostri schermi già nel 2025 Ryan Condal è produttore esecutivo anche di quella serie insieme a George R. R. Martin ora Blackwood e Bracken non sono popolino sono due delle casate più importanti delle terre dei fiumi e lui stesso lo sa bene penso infatti non parlaste direttamente di questo e che l'intervistatore ha strutturato l'intervista in un certo modo per praticità ciò che intende però è l'idea di offrire un'altra prospettiva di staccarci anche solo per un po' dalla famiglia reale e vedere altre dinamiche e perché non testare un po' con le acque qui prima che il popolino diventi importantissimo nella serie di Dunk and Egg insomma tre funzioni ognuna interessante andando avanti vediamo Kryston pronto a compiere un'esecuzione probabilmente quella di Lord Darklyn che abbiamo visto nel primo teaser trailer l'ambientazione infatti è la stessa anche l'esercito verde si muove quindi sotto la sua guida e si ritrova beh a fare cose ecco e tutto questo ci porta al culmine a una delle grandi battaglie della stagione possiamo notare su Kryston la collana di mani del primo cavaliere del re dal trailer quindi ci viene detto subito che Otto perderà il suo incarico e adesso sarà dato a Kryston Cole sarà interessante vedere se le dinamiche saranno simili a quelle di Fire and Blood oppure se avremo modo di vedere nuovamente un altro lato di Aegon mi piace però l'idea che sia completamente indisposto ad ascoltare il nonno in modo che Otto veda il suo duro lavoro cadere in mille pezzi non avendo considerato il fatto che Aegon forse si è fatto manipolare fino a quel momento ma non è comunque un po' pazzo da manovrare come vuole e la cosa vista la sua natura non è poi così tanto un bene e a tal proposito bene e guerra sia ed ecco qui la diretta opposizione tra lui e Rhaenyra il diverso peso che danno al tutto sarà interessante vedere in quali altri modi saranno messi a confronto nel corso della stagione spero in una cosa qui che comincia ad essere fatto il build up per il loro incontro in futuro e chi vuole intendere intenda e venga a piangere con me in un angolo è interessante anche qui la costruzione degli shot di Aegon e Rhaenyra spesso infatti sono simili ma al contempo molto molto diversi in tono parlando di eserciti che si muovono ecco la forza Lannister per arrivare al Golden Tooth il dente dorato il castello è la sede di Casa Lefford una delle principali casate giurate ai Lannister si trova sulla River Road strada del fiume e per quanto come castello non sia molto grande è incredibilmente importante è situato infatti su una collina nelle terre dell'Ovest più o meno al confine con le terre dei fiumi esso sovrasta una delle uniche strade di entrate uscita per queste terre e tendenzialmente la domina se qualcuno quindi vuole invadere le terre dell'Ovest deve prima assicurarsi di poter mettere sotto assedio il dente dorato e di conquistarlo in modo che il passaggio sicuro sia garantito va da sé se uno vuole invadere le terre dei fiumi da quelle dell'Ovest è comunque da lì che deve passare e infatti ecco lì Lannister fortuna per loro che tutta la sua regione li segue nel giuramento dei Gon II ecco nella storia di Asongo by Senfire abbiamo più volte la menzione al castello come luogo fondamentale per movimenti di questo genere dalla ribellione Blackfire al perludio della e durante la guerra dei cinque re in quest'ultimo caso più o meno per vedere un modo per aggirarlo che qualsiasi altra cosa ma tant'è penso che sia quindi molto bello vederlo su schermo prima dell'invasione delle forze Lannister delle terre dei fiumi ciò mi porta a riflettere su una cosa nell'intervista ad Entertainment Weekly Ryan Condal parla di due sequenze di battaglia per questa seconda stagione anche di grande proporzione per il quale è molto entusiasta una neanche a dirlo è il riposo del corvo ma l'altra? ecco non sono pochi che speculano sul fatto che sarà la battaglia sulla Forca Rossa dopo quindi l'invasione delle terre dei fiumi da parte delle forze verdi delle terre dell'Ovest essa a mio parere si presta bene sarebbe una battaglia sofferta e molto avvincente una vittoria verde diversa da Luxrest perché senza draghi con una morte che ha il suo peso e una serie di imprese interessanti la prima quella che porterà Peter Longleaf ad essere chiamato Lion Slayer un soprannome che si è guadagnato diciamo con tutto il diritto e ad ottenere il cavalierato la seconda l'impresa di Tarbek oltre che la dimostrazione della resistenza nera la determinazione di entrambi gli eserciti staremo a vedere ecco ma diciamo che non è un'opzione che mi dispiace voi quali pensate siano le grandi due? andando avanti vediamo una Alicent in preda allo sconforto per quasi tutto il trailer e la cosa culmia nel suo lasciarsi completamente sommergere dall'acqua della vasca da bagno si deduce sarà molto interessante vedere come giocheranno sulla psicologia del personaggio ma da sé la cosa vale per tutti ma quando prima ho parlato di ruoli più attivi di determinati personaggi nella danza penso anche a cose di questo genere non è necessario che salgano su un drago e scendano in battaglia ecco come per il trailer nero abbiamo una prevalenza di primi e primissimi piani per i personaggi a sottolineare il loro stato d'animo in modo che lo spettatore colga anche il minimo movimento del viso c'è anche una presenza molto carina di dettagli ben collocati dagli occhi di Rhaenyra sulle parole di Alicent a proposito del regno che non accetterà mai una regina a una mano maschile presumibilmente Aemond che gioca con una moneta con la stella a sette punte ovviamente anche in questo trailer non potevano mancare i draghi possiamo finalmente vedere Sunfire lo splento drago Diego in secondo il suo orgoglio e la sua gioia non vedo l'ora di vedere cosa faranno con lui e il rapporto tra di loro Ryan Condal per EW ha parlato un po' del drago e delle difficoltà che ci sono state nel crearlo anche se in ultimo è stato molto divertente farlo al momento dobbiamo aspettare per vedere come è stato animato e il suo ruggito ma ci ha potuto dire una cosa o due sul suo aspetto quel drago è stato descritto in modo così specifico nel libro come il drago più bello che sia mai esistito credo che fosse nostro dovere cercare di raccogliere questa sfida ma in modo da non dare l'impressione di creare un drago di un'altra serie un drago fantasy per non usare una parola migliore quindi Sunfire doveva esistere come un personaggio superiore che sarebbe stato riconosciuto come particolarmente bello in un mondo in cui ci sono altri 17 draghi in giro nel libro making of the house of the dragon per quanto ci sia malapena nella prima stagione si è visto una volta nella 1x07 e molti non l'hanno riconosciuto effettivamente era da lontano insomma non definito il design del drago era stato realizzato e se ne è parlato per un po' ciò che mi hanno dato almeno nei concept che lo distingue dagli altri lo metto un gradino sopra e vedremo se riuscirà ad essere traslato una volta che la seconda stagione ha fatto il suo debutto sono le ali iridescenti come quelle di una libellula di colore rosa e violetto sarà interessante vederlo fuori dal dragon pit barra fossa del drago senza dubbio abbiamo modo di vedere anche cyrax vagare e mondancer come nel trailer nero quest'ultima la vediamo srovolare una foresta e mimetizzarsi con gli alberi qui e possiamo vedere il suo distintivo motivo sulle ali anche questo descritto nel libro making of sappiamo che quella è la born woods dove sono girato una serie di scene ma la più è stata riposo del corvo di nuovo sarà interessante vedere come bella sarà coinvolta se lo sarà un altro drago però ha fatto il suo secondo debutto se così la possiamo chiamare lo conosciamo infatti ryan stesso ci ha confermato che si tratta di sismock il drago di lenor velarion stava per nascere lo stesso dibattito nel primo teaser trailer questo giro è stato fermato sul nascere e a questo punto vista la grafica mi sa che dobbiamo dire una cosa questo è sismock ma se continua il dibattito ci piace lo stesso anche perché considerando la nostra fortuna non mi stupirei se sbagliassimo anche su questa cosa comunque andiamo avanti ATW non sono riusciti a tirargli fuori nessun dettaglio su di lui e il suo cavaliere perduto oltre che sul possibile ruolo del drago nel futuro della serie se non che ora è invecchiato dall'ultima volta che l'abbiamo visto lì alle Stepstones dove era un drago giovane è cresciuto e maturato sarà interessante vedere quindi cosa succederà bene ora fare una piccola parentesi sulle Steels che abbiamo avuto in corredo al trailer andiamo qui molto velocemente per poi fare una serie di considerazioni generali e chiudere il video la prima riguarda il funerale di Luceris non essendoci un corpo ciò che viene bruciato per il rito funebre Targaryen sono i suoi vestiti nella seconda vediamo le gemelle drago Bella e Rena partecipare ad un asseduto del concilio ristretto e di guerra di Rhaenyra possiamo vedere oltre a Stefan Darkling anche una serie di lore del tavolo dipinto dove si è tenuto il primo concilio di guerra nella 1x10 Aegon ad una seduta del concilio ristretto che passa le mani sul pugnale di Viserys la cosa è interessante come sottolineavano luce e vittorio del mondo del ghiaccio del fuoco nella loro analisi infatti questa immagine sembra un richiamo al ritratto di Amok commissionato da George R. Martin stesso lo stesso vale se pensiamo all'armatura che abbiamo visto nel trailer la corona e via così andando avanti demoni presumibilmente le terre dei fiumi con il suo esercito misaria a dragonstone e mondecriston che presumibilmente elaborano una strategia di qualche tipo su come agire contro i neri riguardo a cosa non si sa ma c'è una mappa lì e sarà interessante scoprire se riguarda riposo del corvo o altro alessante tower la regina vedova che non sembra essere particolarmente felice renis sargaria ne corre svelare una presumibilmente il porto dove è attaccata la cisne che riparazione di cosa parlano non è chiaro al momento sarà interessante scoprirlo nel video making of avevamo parlato del fatto che renis indossa sia i colori della casata del marito che quelli della sua a testimoniare tra le altre cose la sua indipendenza in fondo in circostanze normali sarebbe stata una regina ha anche un terzo stile però uno che ricorda più quello dato dalla costumisa della prima stagione genitemim agli uomini di westeros ed è sostanzialmente la sottenuta da guerra completamente in nero senza però la sua armatura in rame che indossa quando cavalca melis per ultima quella che a mio parere è la più interessante e che spezza il cuore come immagine promozionale da una parte per la prima volta vediamo Elena che veste in verde il colore della fazione del marito dall'altra sta cucendo una cosa che abbiamo visto in non pochi leaks durante le riprese e se non volete spoiler vi chiedo di schippare al minuto che leggete in sovrimpressione un po' più avanti quindi Elena sta cucendo il sudario del figlio c'è da chiedersi se l'immagine corrisponderà ad una scena prima degli eventi di sangue e formaggio o dopo Elena è una sognatrice ha predetto diverse cose correttamente la perdita dell'occhio di Emon Melis a fossa del drago durante l'incoronazione ha predetto persino la danza dei draghi stessa ha già visto la morte del figlio e gli sta cucendo qualcosa o lo farà dopo la sua morte prima del funerale cosa dobbiamo aspettarci da Elena dopo questo terribile evento andiamo quindi a concludere facendo qualche considerazione sparsa qui personalmente a me entrambi i trailer sono piaciuti fanno il loro lavoro potrebbero esserci alcuni contenuti da qui a giugno poi il 15 maggio ci sono i VB Upfronts un altro evento del gruppo Warner Bros Discovery ad un mese esatto dal debutto della stagione e come avevamo detto nell'analisi dello scorso teaser trailer ora è più tipico che i grandi trailer escono a circa un mese dal debutto del prodotto quindi siamo lì mi aspetto comunque qualcosa prima del 16 giugno magari non qualcosa della portata della pre-season 1 proprio perché era un nuovo show anche se appartenente ad un franchise se lo possiamo già chiamare così più grande ma qualcosa ecco staremo a vedere sarà interessante per un lettore questi trailer fanno nuove rivelazioni ci fanno domandare anche molte cose che tipo di interpretazione potranno dare a fatto x y e z ma al contempo si possono chiaramente identificare personaggi ancora non esplicitamente nominati ed eventi chiave nella danza dei draghi per chi non ha letto se siete arrivati fino a qui anche se vi ho anticipato gli spoiler quindi sicuramente li volevate spero che vi siate divertiti sono curiosa di sapere la vostra cosa vi aspettate da ciò che è stato visto per quanto riguarda le migliorie sostanzialmente si va a confermare ciò che abbiamo detto lo scorso teaser trailer hanno aggiustato una serie di aspetti che non funzionavano nella prima stagione e i visuals sono molto migliorati niente più filtri e strane saturazioni o draghi nella nebbia per esempio ok si vaga emerge dalle nuvole ma potremmo pensare sia l'effetto sorpresa al suo rugito che squarcia persino l'aria e immobilizza chiunque ancora prima che possa essere vista si immagino che quello sia il suo ingresso alla battaglia di Ruxrest se non lo è chiederò i danni qui si scherza ovviamente però forse neanche tanto vediamo si può anche notare un'abbondanza di personaggi nuovi anche se li intravediamo appena da Cregan Stark ai semi di Drago e uno spostamento di focus della serie verso i personaggi più giovani che magari non hanno avuto tantissimo spazio nella prima stagione ma che ora hanno modo di brillare era ciò che voleva Condal e sarà interessante vedere focus su personaggi come Jace le gemelle Drago Elena Emon e molti altri ecco parlando di nuovi personaggi ancora non si sa niente del personaggio di Deron Targaryen ma il nostro showrunner l'ha nuovamente nominato nell'intervista EW che abbiamo continuato a citare dicendo ancora una volta che esiste anche nella serie semplicemente bisogna dare tempo al tempo avremo modo di vederlo come già detto in tutta questa analisi è stato bello vedere diversi fotogrammi ripetersi da un trailer all'altro come Egon che si siede sul trono Vagar Cyrax e altro e come le stesse immagini se contestualizzate in modo differente possono avere sullo spettatore un effetto differente mi è piaciuto molto anche il gioco di specchi e il gioco di opposti il primo si vede molto bene sia con Daemon e Daemond sia con Rhaeny e Alessand i parallelismi si ripetono in continuazione i due nipote sembrano condividere tutto persino nei poster hanno luoghi posizioni portamento e piano piano si sta costruendo un loro incontro perché il destino di entrambi può portare solamente verso l'alto come lo è stato per Fire and Blood per Renire e Alessand possiamo dire che hanno gli stessi pensieri per quanto espressi in modo diverso nei confronti della guerra e tutto ciò che sta succedendo dietro le loro parole ci sono sia motivi altruistici che egoistici e alla fine entrambe forse fanno fatica a riconoscersi allo specchio rispetto a quelle giovani amiche che erano a leggere libri su Nemiri e di Nisar nel parco degli dei della fortezza rossa amiche in un tempo lontano e per quanto ora i loro mondi siano inconciliabili comunque legate da un sottilissimo filo certo questa cosa non esiste in Fire and Blood ma è un'aggiunta affascinante e chissà come con l'aggiunta di questo legame alcuni eventi nel libro possono essere adattati per il gioco di opposti è molto interessante quello tra Renire ed Aegon i volti delle rispettive fazioni la prima come già detto sente tutto il peso di quella guerra lo vediamo nelle parole ma anche nelle immagini dal dolore che prova il quasi mancamento sul balcone a Dragonstone passando comunque per forte determinazione il secondo sente un peso sulle spalle ma è quello verso se stesso e il senso di inadeguatezza con il quale è cresciuto che ora ha la possibilità di scrollarsi di dosso con tutte le difficoltà del caso non è stato preparato Aegon e tutto quasi ci sembra un gioco non lo prende sul serio e se lo fa è perché vede ciò che sta avvenendo come un affronto a se stesso e alla sua autorità a prescindere il risultato è solo uno e la danza dei draghi è quella guerra che non ha vincitori che ha avuto come unico vero risultato l'indebolimento di una casata come Targaryen che mai più si è ripresa la conclusione ce la dice Rian Condra stesso nell'intervista che abbiamo continuato a citare nel corso di questo video questa non è una storia di buoni e cattivi di bianco e di nero c'è una disputa sulla successione di Viserys c'è chi pensa sia Renira e chi pensa sia Aegon e chi invece dice perché loro perché non posso essere io chi me lo impedisce la cosa lo affascina lo diverte sotto molti aspetti dice la storia è quella di una tragedia di una famiglia che si distrugge e distrugge anche una fonte determinante per il suo loro potere quella dei draghi in una guerra civile sanguinosa senza esclusione di colpi dove verso la fine come predice Renis nel trailer nero quasi non ci si ricorda più del perché si è cominciata con tutte le atrocità commesse abbiamo due schieramenti con le rispettive ragioni e poi beh Ryan ha già fatto una piccola anticipazione ma potremmo dire che altre persone potrebbero emergere e guadagnare supporto ma alla fine il risultato è sempre quello e quello che rimane sono macerie cenere proprio ciò su cui Rhaenyra nella 1x10 non voleva governare è terribile incredibilmente triste e fa forse riflettere non poco su molte cose anche nel nostro mondo questa seconda stagione sarà molto molto interessante e direi che ho blatterato abbastanza ed è bene chiuderla qui spero che il video vi sia piaciuto non esitate ad esprimere le vostre opinioni sui trailer e cosa pensate che avverrà in questa stagione di House of the Dragon nei commenti sono sempre contenta di leggervi ringraziamo tantissimo tutti i nostri patrons che ci sostengono e ci sopportano specialmente in questi giorni in particolare il nostro gran maestro Chiara e i nostri maestri Davide, Giollare, Whitebull73 che cule Riccardo e la Dama Grigia ringraziamo anche i nostri accoliti in sovrimpressione e i nostri piccoli novizi se volete anche venervi a pedere in cambio di contenuti esclusivi ogni mese il link è in descrizione siamo simpatici giuro per tutto il resto ci trovate sui nostri social il link 3 lo trovate in descrizione ci vediamo presto per un tinfo nice coming la presentazione è di nuovo formato sul canale e ovviamente House of the Dragon Valardo Aeris grazie